Un'importante variazione perché da due giorni è stata giudicata la gara, una giudicazione provvisoria perché le gare funzionano così, diciamo che la definitiva dovrebbe arrivare fra 40 giorni. Avremo naturalmente questo volo notturno anche, un volo H24, per adeguare tutte le nostre strutture proprio da gara, sono previsti sei mesi, quindi è importante dire al cittadino che non avremo da domani il servizio H24, da domani avremo il servizio che abbiamo avuto negli anni scorsi e quindi questo servizio che va dall'alba al tramonto. Fra sei mesi invece partirà questo H24 nelle 27 piste che già abbiamo dislocate nel territorio, 27 piste di cui alcune già pronte perché abbiamo la pista di Pesaro, la pista di Pergola, quella di Belforte, quella di Cingoli, quella di Castel Raimonde, di Serra dei Conti che sono già idone al volo notturno. Fano, visto che siamo a Fano TV, è prevista nel 2020, quindi con i fondi di bilancio regionali 2020 renderemo così efficace anche dal punto di vista del volo notturno anche la pista di atterraggio di Fano. Devo aggiungere che quindi delle 27 piste che già abbiamo, 7 nuove ne faremo nel cratere, 5 nuove sono previste dal nuovo PSR, saranno localizzate nella provincia di Pesaro a Carpegna e Urbino che attualmente mancano, quindi sempre questo un lavoro che si farà nel 2020. Con questa riforma un pochino abbiamo smembrato gli ospedali, soprattutto quelli dell'entroterra, ecco con l'elisoccorso H24 noi portiamo la nostra eccellenza in tutto il territorio, quindi H24, cioè l'emergenza urgenza con l'elisoccorso H24 noi siamo in grado sia di giorno che di notte di portare tutti agli ospedali riuniti di Torrette che sono veramente un'eccellenza nazionale. L'azienda che si è giudicata all'appalto e che se lo giudicherà in modo definitivo metterà anche altri mezzi, altri velifoli, quindi un potenziamento anche proprio della macchina strutturale? Sì, noi attualmente, intanto l'azienda è un'azienda londinese che ha sede a Milano e sta già gestendo parte del Nord Italia, soprattutto il Piemonte e parte del Lazio, quindi è un'azienda già testata. Sì, ci saranno dei potenziamenti, noi comunque attualmente abbiamo due elicotteri, Icoro 1 e Icoro 2, uno a Dancone e uno a Fabriano. Sì, ci saranno dei potenziamenti, noi abbiamo due il nostro corso.